Ci siamo! Il conto alla rovescia ha ormai le ore contate e dopo un'estate di preparazione atletica le 16 squadre di promozione regionale sono già in astri di partenza, pronte ad inaugurare la nuova stagione sportiva 2023-2024. Dopo aver concluso la scorsa stagione in sesta posizione, lo spinete quest'anno a tutte le carte in regola per ripartire nel migliore dei modi, grazie anche agli ultimi colpi di mercato estivo, tra i quali gli attaccanti Gianni Ruberto e Cirenei, i centrocampisti di Nezza Calabrese, il difensore Pasqualone e i due portieri Pinelli e Colardo. I gialloverdi domani affronteranno tra le mura amiche l'ostico Trivento. Gli uomini di Mister Civico, dopo l'esordio casalingo di domenica scorsa contro Henry Palimosani, squadra neopromossa nel campionato d'eccellenza molisana, sono ancora al lavoro per ampliare l'organico della nuova stagione, ma nei giorni scorsi hanno ufficializzato i primi due acquisti, il portiere Melaragno ed il ritorno del bomber treventino Alex Minichillo, che viene direttamente dall'esperienza abruzzese nelle fila della bacica lupo vasto marina. Spinete Trivento sarà arbitrata dal fischietto del signor piano di Campobasso. Ferve l'attesa anche per il derby campano previsto a Pietra Melara, dove la buona Bois Vairano ospiterà l'altile a Sammium. Proprio i giallorossi provengono dal ripescaggio e, dopo la sconfitta nella scorsa domenica nella gara di andata di Coppa Italia contro la Virtus Gioiese, squadra di eccellenza, hanno quest'anno la giusta grinta per ripartire nel migliore dei modi. I padroni di casa, invece, dopo aver concluso in settima posizione nella precedente stagione, hanno già ottenuto un buon filo positivo, grazie alla vittoria nella scorsa giornata di Coppa Italia casalinga, in cui sono passati in vantaggio a rimonta per ben 4-3 sull'Olimpia agnonese. Obiettivo stagionale per il Vairano, quello di puntare in alto, e lo hanno dimostrato in concreto le new entry del mercato estivo, prima, fra tutti, il ritorno dell'attuale neodirigente Modesto Ursillo. Ad arbitrare questi 90 minuti di gara sarà il signor Tamburri della sezione di Isernia. Faranno invece il loro esordio nel campionato di promozione le neopromosse, Morcone Calcio, Polisportiva Calena, Chaminade e Forulum. Nonostante la sconfitta subita per mano dell'Isernia nella Molise Cup di Lettanti, i campani di Mister Scasserra, domani con il favore del campo, ospiteranno i molisani guidati dal neo allenatore Mister Silvio Cinquino, che si è mostrato pronto e fiducioso in vista dell'attisissimo esordio ufficiale dei suoi nella nuova stagione calcistica. E proprio nelle ultime ore la Polisportiva Calena ha vinto 3-0 a tavolino contro il Campo Marino. Sul campo era terminata 5-0 per gli Adriatici. Oggetto della contesa l'impiego da parte del Campo Marino di un giocatore non tesserato. Ma tornando ai 90 minuti di domani, Morcone Calena sarà diretta dal fischietto del signorizzo della sezione di Isernia. A chiudere il ricco palinsesto degli appuntamenti in agenda domani sarà il match che vedrà un altro debutto stagionale, quello tra Chaminade, squadra del Capoluogo e del Forulum, con pagina isernina proveniente dal campionato di prima categoria Girone A. A dirigere il match sarà il signore esposito della sezione di Termoli. E dunque non ci resta far altro che augurare a tutte le 16 formazioni regionali un grande impocca al lupo e sempre che vinca il migliore.